È stato approvato il parere in riferimento all'occupazione e allora vorremmo sapere come può impattare per la Puglia un parere del genere e in che tempi? Noi sostanzialmente con questo parere affermiamo il principio che regioni e comuni devono avere maggiori dotazioni finanziarie. Le regioni come la Puglia e i comuni come le città della Puglia ormai gestiscono direttamente la politica sociale, i temi dell'inclusione sociale e anche il mercato del lavoro con alcune competenze nelle province e il resto tra regioni e comuni. Indubbiamente vanno rivisti gli strumenti finanziari in adozione che sono il Fondo Sociale Europeo per esempio ma vanno adottati anche alle esigenze degli enti locali e regionali i nuovi strumenti finanziari di cui l'Europa si sta adottando nella strategia 2020. In questo senso infatti nel tuo parere si parlava abbondantemente cioè nuovi strumenti finanziari che possono in qualche modo impattare sull'occupazione ma li gestirà la regione e soprattutto ci sarà un controllo in che modo possiamo dire di aver fatto uno step o un altro passo verso l'occupazione e il futuro della nostra regione. Questo dipende da quello che avverrà nei prossimi mesi con la nuova programmazione e di certo noi stessi diciamo che bisogna cambiare il modo di gestire questi fondi come appunto il Fondo Sociale Europeo che deve essere orientato agli obiettivi. Cioè guardiamo bene gli obiettivi non guardiamo solo le premesse. È una come posso dire sorta di ammissione di responsabilità da parte dei rappresentanti degli enti locali e regionali in Europa che dicono non vogliamo soldi a prescindere vogliamo i soldi che ci servono per affrontare bene la questione della crescita dell'occupazione dandoci la responsabilità anche di doverlo fare bene. Grazie.